Il seminario didattico dal titolo La Verità Narrabile, andato in scena oggi a San Nicolò, organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia-Romagna e coordinato dal direttore del TGL, Nicoletta Bracchi, si è posto un dilemma attualissimo in una società ormai dominata dai social network e da un'informazione sempre più presente ed influente. È possibile un dialogo tra il diritto alla privacy e diritto all'informazione? Con il contributo di esperti di diritto alla cittadinanza, di servizio sociale e di mezzi di comunicazione, si sono esplorati quindi luci e ombre, vincoli e opportunità di questo particolare aspetto dei rapporti tra deontologia professionale, mandato istituzionale e rapporti con i cittadini. Il problema ovviamente è che nelle situazioni più critiche ci sono anche interventi a volte forti di tutela, soprattutto se ci sono bambini, se ci sono minori, persone che non sono in grado di autorappresentarsi o di tutelarsi, di fare anche interventi che si fanno naturalmente con il contributo di altri professionisti, perché l'agisistente sociale da sola può fare delle valutazioni di tipo sociale e razionale, ma c'è l'ambito psicologico, c'è l'ambito giuridico, c'è l'ambito appunto del rapporto anche con le forze dell'ordine del territorio. Spesso noi ci relazioniamo e collaboriamo con le assistenti sociali, con i servizi sociali e in queste situazioni si crea anche uno scambio di informazioni, il tutto per la tutela dell'utente su cui stiamo intervenendo. Soprattutto adesso il tema direi che è di tanta attualità, essendo entrata in vigore il 2 febbraio, la riforma proprio dell'ordinamento forense, che esplicitamente all'articolo 6 intitola segreto professionale, che va comunque rapportato ancora con le norme deontologiche, tutto ora in vigore, perché entro un anno saranno poi emanati i regolamenti che disciplineranno ancora meglio i casi in cui l'avvocato, ma così come altre figure professionali, dovranno attenersi alla riserva. Il primo impegno di un giornalista è di fornire informazioni possibilmente utili, complete e dettagliate al suo pubblico, ed è il primo punto, il punto fondante. Poi è chiaro che le valutazioni si fanno di volta in volta, in ottemperanza al codice deontologico, un po' al buonsenso.